Come lo sogni il tuo primo gol con la Juventus? Il mio primo gol con la Juventus lo sogno, diciamo, magari con un tiro da fuori aria o con una punizione. Chiedi a Dusan se te li lascia. Dove si prende? A destra o a sinistra? Beh, lui calcia bene in generale, però ovviamente essendo mancino da destra lui calcia veramente bene, io da sinistra.